Maria Claudia Lopez, che è attivista e promotrice dei diritti internazionali, tu, mi permetto di darti del tu, sei italiana di adozione ma sei nata in Venezuela. Sappiamo tutti cosa sta succedendo purtroppo in quel paese. La prima cosa che ti chiedo, questo Juan Huaydo, molti dicono che sia un presidente che si è autoproclamato, ma effettivamente è così? Assolutamente no. Allora, la Costituzione venezolana prevede, l'articolo 233 prevede che il 10 gennaio, con mancata presenza di un insediamento di un presidente eletto democraticamente, tutte le funzioni dal presidente devono essere svolte dal presidente della Camera. Che deve indire nuove elezioni. Sono 30.000 all'incirca gli abruzzesi in Venezuela. Cosa fanno? Cosa dicono? Hanno paura? Vogliono tornare? Allora, la situazione dei nostri concittadini in Venezuela è veramente drammatica. Noi parliamo, il Consolato italiano parla all'incirca di 4 milioni di italiani in territorio venezolano. Allora, è molto difficile avere una statistica riguardo quanti italo-venezolani sono tornati in Italia. La seconda regione con maggior numero di italo-venezolani è l'Abruzzo. Hanno paura? C'è chi dice si muore ogni giorno, è vero? Assolutamente, si muore ogni istante, non ogni giorno. Si muore ogni istante. Le 30.000 morti ammazzati all'anno e le persone disperse. Insomma, è una situazione di emergenza. Alcuni parlano di guerra civile, ma in effetti tu prima mi hai detto non è così. Infatti non è una guerra civile, non si può parlare di guerra civile quando non ci sono due bandi armati che si contendono. Invece, quello che accade in Venezuela e accade per le strade della mia città è una repressione bestiale, una repressione veramente drammatica. Da parte del regime. Da parte del regime, perché in questo momento, diciamo, le forze armate sono ancora in mano a Maduro. E' molto importante le richieste che sta portando avanti il presidente Guaidò, perché infatti sta tendendo la mano a gruppi delle forze armate, offrendole comunque delle amnistie. Anche per gli abruzzesi in Venezuela mancano le medicine, i generi alimentari. C'è una situazione di carestia, dice Maria Claudia, che fa un appello alle istituzioni politiche e al governo italiano. Intanto si pronuncia e accetti che il presidente Guaidò è il presidente incaricato legittimo del Venezuela. Assumir formalmente le competenze. Grazie a tutti.